A volte penso, con un piacere triste, che se un giorno, in un futuro al quale ormai non apparterrò più, queste frasi che scrivo rimarranno nel tempo degne di lode, avrò finalmente delle persone che mi comprendono, i miei, la mia famiglia vera in cui nascere e essere amato. Ma lungi dal nascervi io sarò già morto da molto tempo. Sarò capito solo in effigie, quando per chi è morto l'affetto non compenserà più la totale indifferenza di quando era vivo. Forse un giorno capiranno che ho compiuto, come nessun altro, il mio dovere congenito di interprete di una parte del nostro secolo. E quando lo comprenderanno, scriveranno che nella mia epoca non sono stato capito, che sventuratamente sono vissuto tra la disaffezione e la freddezza, e che è un peccato che mi sia successo questo. e chi lo scriverà nel periodo in cui lo scriverà, sarà come coloro che mi circondano, uno che non comprende il mio omologo di quel tempo futuro. e chi lo scriverà nel periodo in cui lo scriverà,